la mortalità per sepsi si è ridotta moltissimo negli ultimi anni ma rimane ancora consistente l'utilizzo dell'antibiotico terapia nei tempi adeguati ed efficace rimane la chiave di volta per ridurre la mortalità nei nostri pazienti purtroppo il problema dell'antibiotico resistenza è qualcosa con cui ci dobbiamo confrontare tutti i giorni in italia più che in altri paesi europei alla base di questo problema c'è certamente l'utilizzo indiscriminato degli antibiotici utilizzo che parte dalle coltivazioni passa dagli allevamenti intensivi e arriva fino all'utilizzo dell'antibiotico terapia negli esseri umani in assenza di un'infezione batterica diagnosticata purtroppo questo problema è qualcosa con cui ci dovremmo confrontare anche in futuro perché lo sviluppo di nuovi antibiotici è limitato e molto spesso viaggia su classi di antibiotici che noi già stiamo utilizzando quindi è verosimile che questi antibiotici questi nuovi antibiotici avranno un ciclo di utilizzo abbastanza breve e nuove resistenze si svilupperanno grazie a tutti grazie a tutti